un saluto amici della rete iniziamo con una nuova serie di tutorial dedicati al modo con cui si seguono i punti chirurgici e iniziamo in questo video con il punto semplice che poi la base di tutte le altre suture che vedremo nelle prossime puntate inizieremo con il dire che tralasceremo completamente il discorso della sepsi del campo chirurgico e quindi useremo per motivi didattici tutta l'attrezzatura senza guanti gli attrezzi che ci servono in questo tutorial sono il porta aghi la pinza il forbice e il filo di sutura quando si usa il punto semplice ma il punto semplice si usa nel momento in cui ho una ferita con i lembi ben dritti facilmente accostabili lembi che non hanno bisogno di una grossa tensione per essere avvicinati e riuniti insieme nella loro condizione iniziale impariamo innanzitutto come prendere il porta aghi il porta aghi si prende col pollice e anulare con l'indice che fa pressione al centro e stabilizza lo strumento impratichitevi più volte nell'aprire e chiudere lo strumento facendo pressione nel modo corretto per sganciare i dentini sulla ghiera che blocca il porta aghi una volta fatto questo andiamo a prendere col nostro porta aghi lago sulla parte finale tre quarti nella coda metallica e iniziamo col primo punto di sutura iniziamo da uno dei due estremi della ferita da uno dei due lati posizioniamoci a circa da mezzo centimetro a un centimetro di distanza dal bordo e entriamo nella pelle con il nostro ago facendo un movimento rotatorio col nostro polso seguendo la curva dell'ago qui possiamo utilizzare due tecniche o con un unico movimento entriamo sia da uno dei due lembi e sia anche sul successivo oppure possiamo entrare da un lembo con la nostra pinza estrarre l'ago riprendere con la nostra pizza l'altro lembo e rientrare degli elementi cruciali sono che il filo passi perpendicolarmente alla ferita e che la distanza del punto di ingresso rispetto al lembo da cui siamo entrati sia abbastanza uguale alla distanza del punto di uscita sull'altro lembo a questo punto avvolgiamo il filo due volte intorno al nostro porta aghi seguendo un qualsiasi verso a questo punto prendiamo con il porta aghi la coda lasciata facciamola passare dentro al foro creato da questo doppio cerchio e stringiamo qui è importante che il nodo sia piatto vedete così non è piatto così invece è piatto il nostro nodo deve essere piatto e stringiamo cerchiamo di stringere il giusto per accostare i due lembi senza esagerare a questo punto una volta fatto questo e facciamo i due lembi e eseguiamo un giro al contrario rispetto al giro con cui abbiamo fatto prima riprendiamo di nuovo la coda e rinfiliamola nel loop di nuovo facciamo un ulteriore giro stavolta nel verso iniziale quindi abbiamo iniziato con un giro orario andremo a fare orario antriorario orario e così via quindi avvolgiamolo di nuovo nel verso opposto rispetto all'ultimo nodo che abbiamo fatto riprendiamo il codino e richiudiamo questo nodo potrebbe bastare così in realtà il mio consiglio è di abbondare abbondate perché poi i nodi tendono a sciogliersi per cui se voi invece averne fatto solo tre ne fate quattro cinque sei soprattutto con il monofilamento se anche se ne scioglie uno due tre di nodi non succede nulla riguardo la posizione del nodo scuole di pensiero c'è chi non lo lascia centrale perché dice che può creare le seguitazioni di compressione sulla ferita c'è chi invece lo lascia centrale perché lasciandolo lateralmente dice che il nodo non lavora in modo simmetrico sulla ferita per cui tende avere una forza maggiore da un lato rispetto a un altro io preferisco sinceramente lasciarlo centrale a questo punto tagliamo i pezzi di coda da un lato dall'altro in eccesso lasciando più o meno un centimetro di coda da ambo le parti e continuiamo all'eseguire altri punti di sutura qui la condizione ideale è che i punti di sutura entrino tutti quanti più o meno alla stessa distanza con cui abbiamo eseguito il primo punto e che la distanza fra un punto e l'altro sia uguale su tutti i punti di sutura che andiamo a fare ricordate sempre sempre refertate quanti punti avete messo che tipo di filo di sutura avete usato e anche il tipo di punti che avete messo questo faciliterà il collega che andrà a toglierli per quanto riguarda invece il toglierli io preferisco per toglierli cioè chi usa le forbici io preferisco il bisturi prendete il nodo lo tirate verso l'esterno verso l'alto in modo da mettere in perfetta evidenza il pezzo di cappio che c'è sotto al nodo non andate mai a tagliare alla ceca o se non siete sicuri che quello che state per tagliare è il cappio il cappio che passa dentro la pelle perché rischiate che poi avete grossi problemi nel togliere il restante filo che può diventare difficile da raggiungere una volta che avete evidenziato con certezza il cappietto sotto al nodo con il bisturi verso l'esterno ricordatevi sempre verso l'esterno tagliate e sfilate il punto di sutura Grazie a tutti